Ciao, questo è un video abbastanza semplice che ha come obiettivo quello di mostrarti alcuni esercizi specifici per la mano che sono, diciamo così, generici, ovvero sono esercizi che vanno bene sia nel caso tu hai un problema come un dito a scatto, un morbo di tubo e tren, oppure degli esercizi che possono essere utili per una riabilitazione di una mano che ha subito un trauma o un intervento chirurgico. Ti invito eventualmente a contattare un fisioterapista e chiedere consiglio eventualmente al medico che ti hai in cura per calibrarli al meglio. Ma non perdiamo tempo ed iniziamo! Grazie a tutti! 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 l'ha fatto metti like a questo video se hai dei commenti oppure delle domande puoi lasciarle qui sotto e sarò ben felice di risponderti nel più breve tempo possibile io ti aspetto al prossimo video ciao